Omicidio a Belmonte Mezzagno in via Umbria nel Palermitano. La vittima è Antonio Diliberto, commercialista di 48 anni, fratello dell'ex sindaco Pietro. Il cadavere è stato scoperto dentro un'automobile, una BMW, davanti alla sua abitazione nei pressi del campo sportivo. L'uomo è stato colpito a diversi colpi d'arma da fuoco. Secondo la prima ricostruzione di quanto accaduto da parte dei carabinieri, Diliberto sarebbe appena entrato nella sua automobile parcheggiata sotto casa quando i sicari hanno esploso frontalmente almeno quattro colpi di pistola che hanno sfondato il parabrezza uccidendolo. Diliberto, sposato e con tre figli, abitava in una villa costruita da poco nei pressi del campo sportivo del paese dove è avvenuto l'agguato. Alle 9.20 era arrivata la segnalazione ai carabinieri che dentro una vettura vi era un uomo morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di misilmeri e della scientifica. La vittima non aveva precedenti ma risulta apparente un cugino del pentito di mafia, Filippo Bisconti, un nome pesante, ex boss di Belmonte, poi collaboratore di giustizia, il quale ha aperto uno squarcio sulla ricostituzione della nuova cupola di Palermo smantellata da una recente operazione antimafia. Una prima ipotesi investigativa è che si sia trattato di una vendetta trasversale per mandare un messaggio al pentito Filippo Bisconti. Filippo Bisconti